Crescono le assunzioni all'eco e aumentano più nel settore del turismo che nel comparto industriale. I dati delle indagini Union Camere nel trimestre settembre-novembre 2018 evidenziano una crescita della domanda occupazionale rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso di 560 unità per le aziende lecchesi. Ancora una volta i dati confermano che il contratto a tempo determinato, quello maggiormente prediletto, all'eco in aumento del 6%. Sono previste assunzioni al 30% con contratti a tempo indeterminato, al 59% a tempo determinato, all'8% di apprendistato e al 3% con altre tipologie di contratto. A guidare la classifica per settore è il turismo dove le assunzioni sono in crescita del 46% rispetto allo stesso periodo del 2017. Crescono anche nel settore industriale ma con 9 punti percentuali in meno. Le figure professionali più ricercate sono operai nelle attività metalmeccaniche e elettromeccaniche 270 unità. Significativo anche il dato delle previsioni delle assunzioni nel mese di settembre per gli specialisti della formazione insegnanti dovuto evidentemente all'inizio nell'attività scolastica. All'eco sono 240. I dati sulla domanda di lavoro delle imprese commenta Salvatore Monteduro, segretario generale della Will dell'Ario, evidenziano da un lato la crescita dell'occupazione complessiva, dato questo positivo, ma dall'altra parte resta il problema legato all'aumento dei rapporti di lavoro di tipo precario ed è soprattutto negativo il dato che riguarda l'utilizzo del contratto di apprendistato, una modalità di assunzione rivolta ai giovani che a Lecco è in calo del 4% rispetto all'anno scorso. L'indagine dello studio Excelsior, prosegue Monteduro, dimostra che il decreto dignità non ha prodotto una riduzione della domanda occupazionale complessiva come qualcuno paventava. Ma dobbiamo, ancora una volta, conclude il segretario della Will dell'Ario, evidenziare che è prematuro valutare quali siano gli effetti delle modifiche introdotte in considerazione del fatto che è previsto un periodo transitorio fino al 31 ottobre per l'applicazione delle nuove norme sui contratti a termine già in corso.